Sei degli anni novanta, se almeno una volta hai visto questo. Novanta parti Siete degli anni novanta, se almeno una volta hai visto questo. Siete degli anni novanta, se almeno una volta avete ballato. Siete pronti a fare un tuffo nel passato? È esistita una volta, in tempi così remoti, da farla sembrare solo un sogno, un'epoca perfetta. I colori erano più accesi, le emozioni erano più forti e ogni attimo si trasformava in armonia. Era il tempo della musica e del suono. Tale era la bellezza di quel tempo, che un giorno un gruppo di folli decise che era giunto il momento di fare qualcosa. Per loro, inguaribili sognatori, quell'epoca mai era finita. Era un vivido ricordo nelle loro menti innamorate. Tornerà, dicevano tra loro, ma la sola volontà non sempre basta. «Abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi», disse uno di loro. Allora si guardarono come avessero avuto insieme la più bella delle idee. E fu così che inventarono gli amici più belli, gli amici più cari, promettendo loro il più incredibile dei viaggi. Ebbene, quel giorno è arrivato. Siamo questa notte, di fronte all'altare della musica, per incontrare il re di questa rinnovata era. Signori e signori, fate un inchino. Il ritual può avere inizio. Siamo questa notte, di fronte all'altare della musica. 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 Siamo questa notte. Siamo questa notte, di fronte all'altare della musica. Siamo questa notte. Siamo questa notte. Siamo questa notte. Siamo questa notte.